A Mianto, approvato il piano regionale. Oltre 20.000 firme per i malati non autosufficienti. I giornali del Piemonte online. Nella seduta del primo marzo, l'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità il nuovo piano regionale a Mianto per gli anni 2016-2020. Stabilisce le aree di intervento riguardanti a Mianto di origine antropica e naturale, contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. In chiusura di seduta, la Giunta ha svolto una comunicazione all'Aula sulla Fondazione 20 Marzo. In copertina! Completare la mappatura dell'A Mianto di origine naturale e antropica e la bonifica dei siti di interesse nazionale di Casale Monferrato e Corio Barangero, smaltire i rifiuti che lo contengono individuando nuovi siti di stoccaggio o metodi alternativi, sviluppare l'attività sanitaria del Centro per la lotta al Mesotelioma, informare i cittadini attraverso appositi sportelli comunali e formare nuovi tecnici. Sono alcune delle misure previste dal Piano regionale Mianto 2016-2020, approvato all'unanimità il 1 marzo dal Consiglio regionale del Piemonte. Oltre 20.000 firme per ottenere il riconoscimento delle cure domiciliari dei malati cronici non autosufficienti all'interno dei LEA, i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. La petizione popolare nazionale è stata consegnata al Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, da Maria Grazia Breda, che guida l'associazione Fondazione Promozione Sociale e Prima Firmataria. Il Presidente dell'Assemblea ha trasmesso la raccolta firme ai parlamentari piemontesi perché venga assunta una posizione in Parlamento. Più di 1.600.000 pagine di 103 giornali locali del Piemonte dal 1846 ad oggi sono i numeri del portale www.giornalidelpiemonte.it presentato a Palazzo Lascaris. Cittadini, ricercatori, studenti, storici e giornalisti possono consultare gratuitamente e liberamente la maggior parte delle annate dei numerosi giornali locali pubblicati in Piemonte, un patrimonio prezioso sulla storia del territorio, fruibile da tutti su una piattaforma online. Grazie per la visione!